In un mondo dove tutto sembra ridursi a cifre, mentre la vita di tanti si tinge di precarietà e insicurezza, non possiamo rimanere meri spettatori nella speranza che smetta di piovere. Nel parco di Monza, divenuto per l'occasione una suggestiva cattedrale a cielo aperto, Papa Francesco ha celebrato la Messa secondo il rito della Chiesa di Milano, nella solennità dell'Annunciazione del Signore. Come Maria, anche noi oggi possiamo essere presi dallo smarrimento, in tempi in cui si specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia, si specula sui poveri e sui migranti, si specula sui giovani e sul loro futuro. Il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembra rubarci la speranza e la gioia, mentre le pressioni e l'impotenza di fronte a tante situazioni sembrano inaridirci l'anima e renderci insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E tutto mentre perdiamo il tempo per la famiglia, per la comunità, per l'amicizia, per la solidarietà. Nell'Omelia il Pontefice ha chiesto di guardare al presente con audacia, tenendo a mente le tre chiavi che l'Angelo ci offre per aiutarci ad accettare la missione che ci viene affidata. Anzitutto evocare la memoria, guardare al passato per non rimanere prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisioni come unico modo per risolvere i conflitti. Ricordare l'appartenenza al popolo di Dio, un popolo che non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere, un popolo che non ha paura di dare accoglienza. Infine credere alla possibilità dell'impossibile per non rimanere prigionieri delle nostre capacità, delle nostre forze e dei nostri miopi orizzonti. Alle persone che sono accorse sin dalle prime ore del mattino per partecipare alla celebrazione eucaristica, Papa Francesco ha chiesto di essere aperte alle iniziative del Signore perché Dio continua a cercare cuori come quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie. La messa al Parco di Monza è stata preceduta dalla visita al carcere di San Vittore, primo pontefice a varcare le porte di questo istituto penitenziario, Papa Bergoglio ha portato una carezza gentile tra tante situazioni di sofferenza, conforto per le ferite dei detenuti con i quali ha pranzato nel terzo raggio. Grazie a tutti.